L'ho stoppato come un vecchio terzino il mister, ridiamoci su Lucarelli, 5 punti di vantaggio, era bello poter festeggiare oggi qui, però il percorso fatto non preclude assolutamente la vittoria finale. No, è un peccato sicuramente, non nascondiamo il fatto che siamo delusi dal risultato, senza creare alibi del caldo, assolutamente niente, abbiamo semplicemente sbagliato una partita perché è vero che potevamo perderla, quindi siamo stati fortunati a non perderla e allo stesso tempo però i ragazzi sono consapevoli di aver fatto una partita secondo me sotto tono e erano giustamente arrabbiati e delusi, però questo dà la possibilità di lavorare su cosa si è sbagliato per cercare di essere pronti già mercoledì perché fortunatamente giochiamo subito. Che cos'è che non le è piaciuto mister? Dalla panchina, anzi io ero a bordo campo e l'ascoltavo, spesso e volentieri chiedeva ai suoi andiamo di più sulle punte, facciamo giocare loro, anche perché Sassarini spesso e volentieri andava proprio a uomo, non so se anche in doccia con lo stesso Donatangelo nel momento in cui il Chieti doveva offendere. Ma è stata una classica partita dove una squadra non aveva nulla da chiedere quasi e quindi si è venuta a giocare la sua partita onorando la maglia che indossava, non hanno assolutamente regalato nulla, invece di qua avevamo una squadra, la nostra, che era invece contratta, intenzione, le partite vanno giocate, non va aspettato il momento che finisce perché poi sull'1-0 noi stavamo aspettando che passassero i minuti e quello è un errore, le partite vanno giocate dal primo all'ultimo minuto e invece un episodio ci ha messo un pochettino in difficoltà, ripeto, siamo stati fortunati a non perdere la partita, questo significa che adesso, mercoledì, dobbiamo semplicemente ricaricare un po' di batterie, metterci tranquilli e cercare di chiudere il campionato già mercoledì. Quali giornate saranno quelle che separano appunto la fine di questo match con quello di mercoledì perché credo che mentalmente forse c'è bisogno di resettare un po' tutto, la tensione si è fatta sentire mister oggi. Sì, casomai l'abbiamo scaricata tutta oggi, una squadra forte, va a Capistrello e vince, se non basta Capistrello gioca in casa con l'angolana e vince e va in Serie D. Noi lo siamo, io ci credo e noi ci andremo, anche se oggi, vedi, anche il pareggio sembra quasi una sconfitta, in realtà secondo me oggi è un gran punto.